Da una realtà artigianale presente nel nostro territorio da oltre 127 anni, la pasticcerea Campi di Bustorzizio nasce poi un'idea imprenditoriale e quindi un nuovo franchising con il marchio Bottega Caffè Cacao. Esatto, buongiorno a tutti, noi siamo una realtà presente sul territorio da circa 12 anni, attualmente abbiamo 16 punti vendita dislocati tra il nord Italia e la Svizzera, il nostro format oggi è molto riconosciuto soprattutto chiaramente nella provincia di Varese avendo fatto uno sviluppo a macchia d'olio per esigenze logistiche, per esigenze economiche, quindi puntare allo sviluppo, puntare all'espansione con un criterio di logicità. Oltre a puntare ovviamente sul prodotto, quindi la qualità del prodotto, del caffè italiano, in quale altro modo si può fidelizzare oggi il cliente? Il cliente noi crediamo possa essere fidelizzato con più aspetti, innanzitutto con un servizio, una qualità che non per forza deve ritrovarsi solo nel prodotto ma anche proprio nel modo di accoglierlo, nel modo di seguirlo. La pausa caffè non è più un caffè, quindi io mi bevo qualcosa e scappo, ma ho bisogno di trovare un luogo dove avere 5 minuti per me, dove staccare, dove potermi prendere una pausa, leggere magari un quotidiano e questo fa sì che Bottega poi diventi parte della mia quotidianità. In che modo il web e i social media vi hanno aiutati a fermare questo nuovo marchio? Ci hanno aiutato parecchio. Bottega ha un target giovane di persone che mediamente vanno dai 25 ai 40 anni, quindi questo dato diciamo prettamente anagrafico fa sì che i nostri clienti siano abitudinari nell'utilizzo di social network e nell'utilizzo di tutti questi sistemi che oggi chiaramente poi anche durante questo interessante incontro abbiamo visto, abbiamo valutato. I social network oggi sono il futuro del marketing, del marketing fai da te e noi stiamo cercando di cavalcare a mille quest'onda e di riflesso chiaramente poi c'è tutto un discorso di moda che sta iniziando a nascere, tutto un discorso di appartenenza al marchio quindi proprio io vado da Bottega, noi abbiamo la maggior parte dei nostri prodotti fotografati, sono un caffè, una brioche quindi proprio c'è il piacere di dire mi faccio una merenda golosa, mi prendo un caffè aromatizzato, lo fotografo, lo pubblicizzo e per noi questo di riflesso è chiaramente una pubblicità interessantissima. Grazie a tutti.